Mi sembra questa l'ora per una visita di cortesia, Barbieri. Però io volevo semplicemente sapere come sta. Contessa, ma... Cosa ci fanno? Ci avete già approvato. E lei sarebbe pronta per una discussione tra tutti i nostri figli? Noi, se questo serve a farmi riovere Ludovica. Questi buoni sono davissimi da trovare. La contessa ci tiene tantissimo. E un sbilla guarnieri. Esatto. Solo qualcuno che spera nel mio amore. Cosa ciò che ti interessa. E io volevo. Cosa ciò che ti interessa. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti